Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati con il consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Sabato 7 maggio il Festival Itinerante Albino Classica ci propone il concerto Piano per Due, con il duo pianistico Spinosa-Calcagnile. Lo spettacolo si svolgerà presso l'auditorium Mario e Benvenuto Cuminetti di Albino alle ore 21. Sabato 7 maggio un'interessante visita guidata ci porterà alla scoperta di Alzano Lombardo. Avremo la possibilità di passeggiare per le vie del centro storico, visitare il Museo della Basilica e il Museo Alt, Arte, Lavoro e Territorio, nonché le numerose opere che vi sono contenute. Il ritrovo è fissato per le ore 15 presso il municipio. All'interno della tredicesima edizione di Ad Memoriam, Circolo di Elevazioni Musicali dedicata a Luciano Scainelli, viene proposto il concerto di Cornamuse Piper's Night. L'appuntamento è per sabato 7 maggio alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Gromo San Marino. Un fine settimana all'insegna dello sport è quello che ci aspetta in Val Seriana. Sabato 7 maggio alle F si svolgerà la tredicesima edizione del trofeo Valli Bergamasche, Memorial Luigi Castelletti. La vincente gara di corsa in montagna, che prevede una staffetta per gli uomini e una prova individuale per le donne, partirà da Piazza Libertà alle ore 15. A Scilpario sarà invece protagonista la mountain bike. Sabato 7 maggio ci aspetta una biciclettata lungo un percorso che, partendo proprio da Scilpario, permetterà di raggiungere Pradella, Barzesso, la cascata del Vò e di ritornare nuovamente a Scilpario. L'iniziativa è rivolta soprattutto ai ragazzi a partire dalla terza media. Il ritrovo è fissato per le ore 14.30. Domenica 8 maggio a Gorno torna la camminata in Val del Riso. Questa tredicesima edizione partirà alle ore 14 dall'Oratorio di Gorno e ci porterà al Santuario del Frassino a Doneta. Il percorso, con un dislivello di soli 300 metri, è adatto a tutti. Il Monte Purito a Selvino sarà la location d'eccellenza per lo svolgimento dei campionati italiani giovanili di corsa in montagna. Questa vincente competizione, che si svolgerà domenica 8 maggio, sarà l'occasione per l'assegnazione dei primi titoli italiani di stagione. La partenza è prevista alle ore 9. Anche questa settimana torna l'appuntamento con i percorsi turistico-culturali. Sabato 7 maggio un suggestivo itinerario guidato ci porterà a Songavazzo per scoprire alcune piccole eccellenze del territorio. Visiteremo la chiesa di San Bartolomeo, che per l'occasione mostrerà tutto il suo splendore, e la cappella funebre dello scultore Gian Maria Benzoni, per poi passeggiare fino alla chiesetta della Dolorata. Al termine del percorso ci aspetta una deliziosa degustazione presso il bar-ristorante La Baitella. Il ritrovo è fissato per le ore 15 e 30 presso il sagrato della chiesa di San Bartolomeo. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 342 3897 672. Rovetta è invece la protagonista del secondo percorso culturale. Domenica 8 maggio ci aspetta una passeggiata nel Centro Storico, dove ascolteremo la storia di due ingredienti di spicco della cultura gastronomica del paese, il mais e lo strato rosso e la patata di rovetta. A seguire è in programma un interessante laboratorio che ci svelerà i segreti della semina del mais. Al termine del percorso ci aspetta una degustazione presso il bar Costa d'Oro. Il ritrovo è fissato alle ore 15 e 30 presso il municipio. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 342 3897 672. Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni sugli eventi in Val Seriana e in Val di Scalve potete visitare il nostro portale www.valseriana.eu. Arrivederci e buona serata! Un serio eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalve.